Benvenuti, agenda del dottor Mozzi. Siamo in diretta e tra qualche minuto, come nostra consuetudine, dopo che Piero avrà lanciato i suoi strali verso qualcuno o qualcosa, noi potremmo invece lanciare la nostra sigla per aprire una trasmissione televisiva dedicata alla salute davvero molto impegnativa, perché questa sera l'argomento è il glutine. Quindi non solo celiaci, ma tutte quelle persone che ignare continuano ad assumerlo sotto forma di vari alimenti, quasi tutti già pronti, alimenti da forno, e a collezionare quindi dei segnali subdoli che nel corso della vita potrebbero sfociare in malattie molto serie. Quindi siamo tutti pronti, sì, compagni di viaggio ci sono, Fabrizio Vertua. Buonasera a tutti, pronti, già pronto con l'almetto. Carlotta Chiappani, prontissima, e ovviamente la telecamera su di lui, sul dottor Piero Mozzi, per la sua consueta agenda al vetriolo. Buonasera a tutti, grazie del vostro ascolto. Da cosa si comincia, dottor? Dunque, sì, facciamo una cosa breve, perché questo punto qua, se no, è proprio un disastro, ce ne serve troppo da dire. Siccome sono nato nel 1950, quando per fortuna c'era molto sali in zucca nella testa della gente, nella testa dei genitori, delle famiglie e anche delle istituzioni, e mi ricordo che mio padre, che aveva un'attività commerciale, già all'età di 5 o 6 anni, mi coinvolgeva nel farmi fare dei lavori che riguardavano la sua attività commerciale, ossia prima di andare a giocare c'era il dovere, praticamente, di fare delle cose utili per l'attività familiare, mettere a posto il negozio, cose del genere, man mano che si cresceva i compiti erano sempre maggiori. Invece sapete che cosa succede adesso? Questo è il quotidiano di Piacenza Libertà, il mio ha colpito molto, è la data di sabato 5 aprile, lavorava in negozio 14 anni, titolare a processo, e io mi sono detto, ma allora mio padre, quanti processi avrebbe dovuto subire? Visto come ci coinvolgeva e noi con che passione, cercavamo di fare le cose e farle sempre meglio, perché così saremmo stati premiati. E poi all'interno si legge che questa è la titolare, una cinese di 25 anni che aveva fatto lavorare un minore di 14 anni, che è stato sorpreso dai vigili a dare il resto, era un familiare, non era uno sconosciuto, era un familiare e praticamente verrà denunciato e subirà un processo per sfruttamento di minore. Pensate, quale stupidità veramente terribile, tremenda, oramai ha invaso la testa dei nostri burocrati, dei nostri politici, della nostra società? Invece di dare un premio a questa donna che si fa aiutare da un giovane ragazzo, che così diventerà bravo, visbo, invece che andare a fare il balordo o a stare tutto il giorno a smanettare su internet, andare a vedere come si vive e come si vivrà? E quindi pensate, ma come può avere un futuro l'Italia? Come può avere? E l'articolista dice, e sì, i minori non si possono far lavorare, hanno diritto allo studio e al gioco e a diventare tonti e stupidi in futuro. Quindi, pensate. Piero, d'accordissimo con te, il buonsenso dovrebbe guidare anche queste decisioni, però dobbiamo prendere le distanze dallo sfruttamento vero del lavoro minorile. Quello che ad esempio molte aziende, anche italiane, multinazionali della moda e non solo, applicano nei paesi quelli poveri, paesi come l'India. Questo sicuramente va combattuto. Certamente, ma questo riguarda un'attività economica, familiare, controllabilissima e per giunta dove viene coinvolto un familiare. Ne abbiamo parlato anche il mese scorso del caso di quel poveretto che è in campagna. Che si è suicidato per una multa pesante, per aver fatto lavorare la moglie. Perché la moglie non era... E basta. Se non rientra il buonsenso nella zucca degli italiani e se la burocrazia non la smette di essere un burocratismo fino a se stesso per automantenersi, ma non avremo nessun futuro. Ma soprattutto non avranno un futuro le nuove generazioni, perché rimarranno tonte, perché la passione per fare le cose, visto che poi l'età dello studio passa e per fortuna passa, ma poi bisogna fare i conti con la vita, con quello che si vuole fare da grandi, per sviluppare la propria persona, la propria famiglia, la propria nazione, tutto quanto. Quindi veramente speriamo che vengano i cinesi a governarci e che permettono ai ragazzi, nell'ambito familiare, di svolgere attività. Che così i ragazzi fanno a gara come facevamo noi, a vedere chi faceva le cose meglio, per avere poi il premio migliore, per poi poter andare a giocare con grandissima soddisfazione. Ho aiutato anch'io la mia mamma a dover la vita in un negozio, in una lavanderia ed era per me molto bello, era ponte di gioia. Scatta quella voglia di emulare i grandi, di diventare grandi, non di rimanere perennemente bambini e tonti e diventare più bravi dei grandi. Questo è il futuro di una società, se si vuole veramente che l'Italia, ma anche l'Europa e tutto quanto l'Occidente abbia un futuro. La seconda invece, notizia riguardava sempre se c'è qualcuno che avrà un po' del tempo, che tra l'altro devo ringraziare tutte le persone che hanno spedito le mail al quotidiano Donna Moderna, che tra l'altro si è comportato in modo stupendo perché ha replicato in modo corretto, rinserendo notizie veramente valide e più corrette. Invece sul quotidiano La Stampa di domenica c'è un articolaccio, stupido più che altro, più che cattivo stupido, firmato da un comico che deve essere uno del trio Aldo Giovanni Giacomo e dove dice di quelle scemenze, di quelle cretinate, prendendo spunto dal fatto forse che c'è adesso una diffusione incredibile di diete, mica diete e via dicendo, e spara a zero, come oramai sta andando di moda, sulla dieta dei gruppi sanguigni. La prima che prende praticamente di petto è quella che tartassa di più, è proprio la dieta dei gruppi sanguigni. E sembra che sia scattato proprio una... Il tuo libro ha scalato le classifiche ed è in vetta ora tra quelli nel settore salutistico tra i più venduti, è al primo posto. E questo proprio dice delle cose, proprio addirittura a un certo punto dice, se hai sangue di tipo zero e decidi di metterti a dieta è probabile che diventi un serial killer. Veramente cose, cose che mi ha detto da un comico che capisco che possa avere il diritto di dire delle cose comiche, ma però un quotidiano nazionale non può permettersi di scrivere delle cose di questo genere e screditare. Se ci sono dei bravi ascoltatori che vogliono mandare un po' di informazione alla stampa, il sito deve essere www.lastampa.it, credo che almeno almeno magari, visto che poi i problemi di salute ce l'avranno anche alla stampa e ce l'avrà anche il signor Giacomo e i suoi compagni Aldo e Giovanni. Quindi va bene, finiamo, finiamo. Finiamo? Beh, prima di andare in onda proprio... Beh, devo ringraziare sempre le persone per l'aiuto che ci stanno dando per la chiesetta di San Cristoforo, perché appunto il tette è stato messo in sicurezza e adesso vediamo di sistemare anche le cose interne perché non sia proprio uno sgorbio e quindi vi ringrazio veramente infinitamente. Non avrei mai poi mai immaginato che scattasse questa voglia di... Gara di solidarietà. Sì, 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 proprio... Una cosa, prima di andare in onda... Credenti e non credenti, tutti quanti si sono offerti di dare un aiuto, bello, stupendo proprio. E abbiamo le fotografie che documentano il progresso del lavoro. Prima di andare in onda, lo dico per la terza volta, ho ricevuto, mi hanno mandato un link con una notizia, una fotografia coloratissima di una pizza margherita e la notizia era questa, la pizza margherita è stata nominata come il cibo più salutare e anticancro e ha ottenuto la, diciamo, la proclamazione dal celeberrimo professor Umberto Veronesi perché nella pizza margherita, soprattutto il rosso dato dal pomodoro e quindi dal licopene, soprattutto portato a una temperatura elevata dove appunto svilupperebbe un potere maggiore, soprattutto se abbinato all'olio d'oliva, questo sarebbe il segreto per una buona salute, il segreto anticancro per avere degli antiossidanti naturali in circolo. Evviva! E questa notizia ci porta dritti dritti alla nostra trasmissione. Sì, stasera parliamo del glutine e di tutte, tutte, tutte sarebbe e sarà difficile però la maggior parte e le maggiori patologie correlate con l'uso e l'utilizzo del glutine. Del glutine. Intanto questa foto ha fatto venire fame. Ha fatto venire appetito. Ha fatto venire appetito. Ma guarda, sia te che ai nostri telespettatori l'appetito lo toglieremo. Colgo l'occasione ma sarò velocissima e non voglio rubare tempo perché l'orologio ci dice che dobbiamo essere veramente ligi alla nostra scaletta di marcia. Bene, tra qualche giorno partirà sulla nostra rete una campagna piuttosto particolare. Sono anche un po' imbarazzata a parlarvene, però abbiamo valutato che era il momento giusto. Partirà in sostanza una colletta al titolo Telecolor, la televisione ufficiale del dottor Mozzi, val bene una pizza. Sì, una pizza, proprio quella che avete visto inquadrato fino a qualche istante fa. Che molti vi hanno detto e continuano a dirvi che è essere un cibo salutare. Ma che noi da tanti anni, proprio attraverso gli studi, la conoscenza e i casi clinici del dottor Mozzi, vi abbiamo invece additato come uno dei reali pericoli per la vostra salute. Bene, la nostra informazione indipendente non ci ha affatto sicuramente, non ci ha spianato la strada. Abbiamo un sacco di nemici, anche se oggi molti ci sostengono con la loro simpatia, con la loro attenzione. Oggi abbiamo bisogno che voi tentiate di rinunciare a quella pizza che tra l'altro vi farà male e che invece proviate a sostenere con un gesto concreto questa emittente che come tante altre sta navigando in acque molto agitate. Siamo in contratto di solidarietà, quindi vi chiediamo se potete ovviamente un aiuto concreto. Grazie ancora, sigla. Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano, raccoglieremo l'amore, l'amore, e sentiremo il calore e agire il sole su di noi e tra le spighe dorate avrai la mia estate e il mio cuore. Quando la trebbia finita sarà e scenderà l'imbrunir, nel casolare potremo tornare fino al ritorno del Dì. Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano, raccoglieremo l'amore. Eccoci qua, buonasera e benvenuti a Box Salute in compagnia del dottor Piero Mozzi. Questa sera il nostro titolo è stato avviato proprio da questa canzone e soprattutto da queste immagini apparentemente bellissime, innocenti. Cosa c'è di più caloroso e solare di un campo di grano? Queste spighe talvolta mosse dal vento, bellissimi anche i campi di orzo sia per questo. Però il glutine presente come proteina nei chicchi di grano, di frumento e di altri cereali contenenti appunto glutine è sicuramente, lo diciamo noi, lo dirà soprattutto il dottor Mozzi, qualcosa che va analizzato con attenzione perché non è così innocuo, non è così innocente, soprattutto perché il grano negli ultimi 50 anni è stato modificato e mi è stato detto da una pediatra che fu proprio l'Università Cattolica Lagraria di Piacenza a compiere questa modificazione genetica, un lavoro di ingegneria genetica in sostanza. Il grano di oggi contiene un indice di glutine decisamente molto molto superiore a quello del passato, siamo passati da 7 o 8 valori di percentuale a 20 perché questo serve all'industria agroalimentare. Detto questo io saluto e vi presento i nostri ospiti, il co-conduttore, la nostra segretaria di redazione e l'ospite però, il super ospite. Il super ospite che come al solito è il nostro... Allora, Fabrizio... Mi deve convincere a non mangiare la pizza. Caro Fabrizio Vertua, sei chiamato in causa. Ecco, tanto per cambiare. Oltretutto ancora oggi è stato affermato, diciamo dalla voce ufficiale della medicina, da Umberto Veronesi che è stato anche ministro della salute, che la pizza è un alimento buono, che fa bene alla salute, che è un alimento anticancro per il pomodoro, per il licopene che è una sostanza antiossidante contenuta nel pomodoro. Cara Carlotta, come stai? Bene? Bene, bene. Anche tu consumatrice di pizze? Qualche volta. Allora, stasera ci metterai molta attenzione, non solo a raccogliere le telefonate dei nostri telespettatori, vuoi dire già il numero? Sì, il numero, dico subito il numero, allora 0291 22 0098. Perfetto. Io comincio già la trattativa col dottore, gli dico una pizza a settimana però, neanche quella. Ah, ma unione è libero di fare come vuole. Io la comincio subito, ma io... Qui si fa dura, dottore. Il latte, vada per il latte, vabbè, anche... Sono più brava, io uno al mese. Uno al mese. Sono curioso di capire, ma... Siccome Cremona ha il campanile più alto d'Italia, e io dico sempre, se uno vuole volare e pensa di poter volare, può andare sul campanile, in cima e poi comincia a sbattere le mani, le braccia e dice oggi volo, e poi dipende come va, può provare a volare. Andiamo ad approfondire l'argomento. Allora, siccome l'elenco delle patologie che potrebbero essere correlate al consumo di cereali contenenti il glutine, e guardate che parliamo di tutto ciò che caratterizza la nostra giornata, praticamente. La dieta mediterranea, tradizionale, così come intesa, si apre con il caffelate, i biscotti o le fette biscottate del mattino, con qualche merendina, qualche briochina per i bambini, il biscotto a metà mattina, la classica pasta asciutta e via di questo. È inutile che lo stiamo elencare insieme e starete voi a raccontarci che cosa mangiate. Però per instradare Carlotta dobbiamo spendere qualche parola con il dottor Piero e soprattutto fare un distingo. Penserete che questa è una trasmissione, un po' una replica di quella che abbiamo dedicato alla celiachia. Beh, non è dedicata solo alle persone celiache, che sono sempre in continuo aumento. La diagnosi si fa anche nel corso della vita, non più da bambini come prima. Oggi si parla sempre di più di intolleranza o, meglio ancora, di sensibilità al glutine. Ma anche tutti gli altri, quelli che pensano di non avere nessun problema col glutine, stiano attenti, perché le sorprese arrivano nel corso degli anni e possono essere le più disparate, sotto nome di malattie anche piuttosto serie. Prego, Piero. Eh sì, mi viene da pensare al grande capo dei tumori, grande capo nazionale. Non ci vorrebbe molto per capire se veramente la pizza è il massimo, il top degli alimenti antitumore. Basterebbe che vada a vedere nei paesi dove non si mangia la pizza, quindi quell'insieme di glutine più formaggio scaldato a 200 gradi che diventa sì terribilato che il licopene, che il licopene scaldato che sviluppa i suoi poteri. E lì cascherebbe l'asino. Si vedrebbero che nei popoli che non mangiano le pizze, ossia glutine, latte, non tanto il pomodoro che ne c'entra come i cavoli a merenda, i tumori sono decisamente più bassi, più bassi, ma non di pochi decimali, ma di percentuali a 100 o a 1000. Purtroppo c'è un problema che la pizza come alimento nazionale, come orgoglio nazionale sia diffusa in tutto il mondo. Adesso la pizza la puoi trovare almeno nel mondo occidentale, dappertutto. No, anche in Cina, ovunque la trovi la pizza ormai. Un alimento, diciamo, flessi. Eh, ma infatti, vediamo, non vorrei che le mie parole fossero travizzate. No, 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 per l'amore del genere. Ma le pizze che fino a 50 anni fa praticamente erano relegate solo in una parte del paese, Italia, non esistevano. 50 anni fa la pizza non c'era. 50 anni fa in Italia praticamente, del nord, praticamente. Io sono nato, sì, allora io ho 37 anni, però ho cominciato a mangiare la pizza fin da bambino. Eh, vabbè, ci sta, perché io ricordo alle medie l'inaugurazione della prima pizzeria in Cremona. In Cremona. Che fu un evento, fu un vero grande evento. E quindi, eh, come facevano? Come facevano senza quelli copene lì? Tra l'altro bisogna stare all'occhio a dare queste informazioni. Il veronese dovrebbe stare decisamente all'occhio, perché poi ci sono le persone che abboccano pensano, no, ma come fa bene il licopene? Il santone dei tumori ha detto che il licopene fa bene e soprattutto poi c'è l'altro santone dell'alimentazione che dice mangiate licopene per la prostata, che va benissimo, e tutti si buttano Quale è il professor Calabrese? E tutti si buttano a mangiare licopene e pomodori perché pensano che, sì, se le persone di gruppo 0 e gruppo AB mangiano il pomodoro, se la cavano. Provate a dare il licopene sia sotto forma di pomodoro crudo, sia sotto forma di pomodoro sulle pizza, le persone di gruppo A e di gruppo B. E poi vedete come lì si concia la prostata. Basterebbe che invece che fare dei proclami, che spero che siano tutto sommato in buona fede, anche se oramai comincia ad avere dei serissimi dubbi proprio. Perché se penso che dietro la storia dei tumori oramai c'è un business spaventoso, peggio del business della droga, peggio del business delle armi, peggio del peggio. Per cui non so se c'è questa voglia di debellare i tumori o se c'è questa voglia di mantenere sempre costante e grandemente sviluppato l'industria dei tumori. Piero ci sono dei tumori che possiamo collegare all'inizio, come preferisci procedere? Allora, come tumori che possano, o patologie riferibili a tumori come quelle del sangue, ce ne sono sicuramente diverse, quelle a cui si può addebitare praticamente una grande responsabilità, anche se non al 100%, ma in percentuale quasi vicino, insomma. Dal melanoma al tumore al polmone, che non è come si crede, come si pensa che sia il fumo, il tabacco. Ne abbiamo già parlato, io non sopporto assolutamente i fumatori, mi danno fastidio, mi dà fastidio l'odore del fumo, ma se dicessi che il fumo è responsabile di un unico, solamente anche solo uno, tumore al polmone, direi una falsità. Il frumento sì, che ha delle grandissime responsabilità nella patologia tumorale del polmone. In Oriente che fumano come dei forsennati, ma non usano assolutamente glutine, il tumore al polmone è 100 volte meno che qua. Dicono che loro bevono il tè verde, può essere, secondo me non mangiano le derivate del latte e soprattutto non mangiano cereali con il glutine, vanno a riso e se la cavano. E poi ci sono le leucemie, i linfomi, i mielomi, tutte queste sono patologie sicuramente in cui i cereali e soprattutto i cereali col glutine hanno una grandissima responsabilità e poi forse quello in cui c'è la responsabilità ancora maggiore è il tumore della tiroide e tutte le patologie correlate proprio alla tiroide, insomma, ipertiroidismo, ipotiroidismo, noduli tiroidei, struma tiroideo, ecco praticamente tiroidite di Hashimoto, presenza di anticorpi, antitiroglubuline, antitiroperossidasi, sì, praticamente anche perché di queste patologie in Oriente che mangiano riso e si abbuffano anche il riso perché vedete i dati, i dati che riguardano le patologie metaboliche tra l'Oriente e l'Occidente concordano su un unico fatto, proprio la patologia metabolica per eccellenza, il diabete, perché il riso come il frumento porta, soprattutto se non si fa un'intensa attività fisica e vi dicendo, se non lo si smaltisce, porta ad avere facilmente il diabete, tutto lì. Per via delle glicemie alte che sviluppano? Per via dell'amido, dell'amido, per cui non siamo programmati per consumarne più di tanto, che sia del glutine che sia del riso, il diabete si sviluppa. Fermo restando che probabilmente qui in Occidente, grazie al glutine, si stanno sviluppando molto, molto di più, il diabete di tipo 1, che praticamente rientra tra le patologie autoimmuni, perché in questo caso le isole dell'Angers che producono l'insulina vengono praticamente distrutte e cancellate, invece diversamente in Oriente non c'è questo grande sviluppo di diabete giovanile infantile. Le patologie tumorali forse non sono così toste e tremende come quelle di cui abbiamo parlato nelle due puntate sull'atto, però anche queste sono sicuramente notevoli, soprattutto quella del polmone perché sta aumentando tantissimo e sta colpendo molto anche le donne, insomma. E siccome colpisce forse più i non fumatori che i fumatori, basterebbe che questi benedetti ricercatori cercassero un po' le toni. Senti, quindi anche i tumori quelli della faringe, della laringe, del cavo orale? Esattamente, poi il tumore della laringe, anche questo insieme a quello della tiroide sicuramente è molto molto proprio causato dall'uso dei cereali col glutine. Tutte le patologie della laringe, dei noduli, delle corde vocali e proprio al tumore. Così come nel caso del latte, ho letto e avevamo discusso del fatto che le caseomorfine potessero penetrare e passare la barriera dell'encefalo, in sostanza, quindi arrivare al cervello e danneggiarlo, anche le gluteomorfine hanno questa capacità così potente, insomma. Quindi non solo di penetrare il nostro intestino, quindi entrano in circolo nel sangue e vanno a raggiungere... perché molti si chiedono e ti chiedono, ma come può una proteina presente in natura, in un cereale, avere questi effetti devastanti sulla salute e sugli organi? Quali processi innesca? Eh, i processi che innesca è questo, quello che ha innescato l'uomo, perché praticamente i cereali non esistevano, non esisteva un campo di grano all'origine, non c'eravamo ma non esisteva, perché l'uomo ha cominciato a coltivare i cereali dal 10.000, dal 10.000 facciamo pure conto, dal 15.000 avanti Cristo, ma in quantità minimi, limitatissime, finivano. Poi infatti i cristiani hanno conservato che quando finivano le scorte si sono inventati la quaresima perché c'era da tirare la cinghia, insomma, quindi bisognava fargli andare giù che non c'era più da mangiare e quindi quaresima, e quaresima, e quaresima, e quindi non si mangiava. Vi ricordate? Da piccolini andavate a vedere i sepolchi, tra un po' che siamo a Pasqua, oramai sono spariti, non li fanno più queste cose qua. Mettevano il grano germogliato, i sepolchi, era quel sistema in cui venivano addobbati in previsione della ricorrenza della morte di Cristo, ecco per cui veniva oscurata l'immagine di Cristo, si preparavano tutti questi altarini, vi dicendo, con cerimi, caceri e figi, immagini, e c'erano questi vasi di grano germogliato, proprio perché secondo me veniva dalla tradizione che le ultime scorte di grano cercavano di farle, di farle proprio, di sfruttarle al massimo dal punto di vista proprio nutrizionale, lo facevano germogliare e così si mangiavano i germogli che in primavera davano magari un apporto di clorofilla. Ecco, mangiare i germogli del grano è altrettanto dannoso? Ma dipende, dipende che patologie una persona ha, comunque per finire il discorso di prima, l'uomo ha cominciato a coltivare i cereali, ha cominciato a disboscare le foreste, tirarci fuori dei campi, dei campi di grano e man mano selezionare, 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 per arrivare fino al secolo, al 1900 e soprattutto dopo il secondo dopoguerra, dove la tecnica, la tecnologia, la capacità, diciamo così, grande capacità tecnologica di mettere a punto macchinari, micmacchinari di ogni tipo, di anche separare il glutine dalle altre parti, diciamo, amidacee, perché il glutine è la parte più nobile del frumente, la proteina più nobile è quella che permette di fare con un impasto minimo, di fare appunto una pizza, di fare una sfoglia incredibile, di avvolgerla, di fare qualsiasi forma praticamente. E questo spiega perché l'industria agroalimentare vuole un frumento dei cereali sempre più ricchi di glutine. E hanno cominciato a selezionare, a selezionare proprio qualità di frumento sempre sempre più ricche di glutine. E come non bastasse appunto la tecnologia, ha messo a punto varie tecniche per cui veniva separato il glutine dalle altre parti del frumento, da immettere ancora di più, tipo nella pasta, negli anni 50 è comparsa la pastina agglutinata e che tutti quanti, i genitori dicevano, eh dateli, 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 sì, i biscotti famosi, i biscotti dell'omino, dell'omone col martello, ecco che picchiava, ecco con il martellone, ecco i famosi biscotti al plasmon, insomma, il plasmon che erano arricchiti di glutine. Oggi anche la plasmon ha una linea senza glutine. Ha una linea senza glutine. Tra l'altro mi è capitato di incontrare quell'uomo che vinse il concorso dei culturisti che poi gli fecero fare, gli fecero fare quella pubblicità famosa, famosissima, lui in costume che... Senti, al ritorno dopo la pubblicità? No, ma finiamo un attimo. Ah, perché volevamo farti una sorpresa. Ma l'hanno messo in grande quantità e da lì piano piano, piano piano, si sono sviluppate le prime intolleranze sotto forma di allergie respiratorie. E quello è stato il vaso di Pandora. Pubblicità. E salutiamo Carlotta, quindi quelle sono le patologie più gravi, però ci sarà il campo delle autoimmuni. Sì, sì, sì. E chiamate, in sostanza, eh? Piediamo ai telespettatori di chiamare e raccontarci le loro cene, le loro colazioni e anche i loro problemi di salute. Grazie Carlotta, buon lavoro. A dopo. Eccoci qua a parlare di glutine, a parlare degli alimenti che abitualmente tutti quanti abbiamo consumato per tutta la vita, da una vita, perché in realtà pensavamo tutti che facessero bene. fa parte della nostra cultura alimentare, è l'utile girarci intorno. Fabrizio, abbiamo imparato anche nell'altra puntata del latte, latte vaccino ovviamente, che noi pensiamo, ma tre generazioni o quattro generazioni fa non aveva questo accesso continuo, ad esempio, al glutine. Esatto. Era un modo di mangiare diverso. Però, anche nel mondo dello sport... Piero, vogliamo farti una sorpresa e anche ai nostri telespettatori. Perché anche... Introduci tu, per cortesia. Anche nel mondo dello sport ovviamente ci sono degli sportivi che sono intolleranti al glutine. Qui abbiamo un'intervista a Novak Djokovic, fatta da Fabio Fazio. Stralcio, pochi secondi, ma in cui si parla anche di questo problema che lui ha scoperto di avere. Se vediamo... E l'ha scoperto alla vigilia avendo perso un incontro importantissimo, attraverso un cambio di rotta sull'alimentazione. Lui parla appunto delle prestazioni che erano praticamente mal influenzate dalla sua alimentazione e se ne è accorto durante gli Australian Open quando ha perso un incontro molto importante per i quarti... valido per i quarti di finale. Tra l'altro ricordiamo a chi magari non è sportivo che l'Australian Open è un torneo che mette in paglio anche una discreta somma di denaro. Quindi, se vogliamo dirla tutta, non è... C'ha anche, tra virgolette, smenato dal punto di vista economico, perdonate la venialità. Non è solo un discorso di salute, ma nel suo caso ha inciso anche sulla sua attività professionale, voglio dire, quindi... No, no, beh, l'Open d'Australia è uno dei quattro dei grandi slam, ma sono... Il torneo del grande slam, esatto. Quindi, Diokovic adesso è il numero uno, è del... Sì, è sempre lì, tra lui e Nadal sono... Uno c'è un problema alle ginocchie, lui c'è un problema alla stanchezza... Che si è un mangiatore di banane, ha dichiarato... Invece questo qui si faceva del male con il glutine, però ha trovato la stada ditta. No, questa è la soddisfazione e la dimostrazione che in tempi proprio non sospetti, quando nei supermercati non c'era l'angolino del senza glutine, quando abbiamo incominciato noi, dieci anni fa o giù di lì, a dire queste cose, la dimostrazione che può interferire con qualunque cosa della nostra vita, anche con le prestazioni sportive, l'assunzione di alimenti a base di glutine. Eh sì, infatti, la storia è cominciata gradualmente perché all'inizio c'era una grossa natalità, grande natalità e una notevole mortalità infantile, è il gioco della selezione naturale. I bambini deboli, fragili, cosa succedeva? Andavano incontro facilmente, più che alla denutrizione, proprio alle broncopolmoniti e le broncopolmoniti era proprio il primo segno della forte e potente intolleranza al glutine. Allora, non era un problema, le donne ne mettevano al mondo 5, 6, 10, anche 15, anche se moriva 1 o 2, non era la fine del mondo, però in questo modo veniva tolto il materiale genetico più debole e alla riproduzione ci arrivavano sempre quelli più forti, quella che è sempre stata la grande legge della selezione naturale. Dagli anni 50 in poi è arrivata l'abbondanza, finita le guerre, non si sono più ripresentate, la tecnologia e la cosiddetta scienza, scienza agraria, scienza della ricerca, scienza alimentare, che cosa hanno fatto? Hanno pensato bene di immettere grosse quantità di questa proteina, che ufficialmente è la proteina più nobile che è presente in quel piccolo chicco del cereale frumento, è presente anche però nel farro, nel camut, nella segale. Perché molti pensano che l'alternativa sia mangiare il farro, il camut, adesso poi c'è il monococco, ma niente. Anche l'avena contiene poco, ma contiene tutto. Farro, camut, torzo, segale, avena, sono tutti cereali che contengono chi più, chi meno glutine. Anche questi cereali antichi, come ad esempio tu hai citato, il monococco. Anche il camut, il corazana e anche il monococco, basta. Sono altrettanto insidiosi quindi, scusa se insidio. Perché appunto il glutine prima la gente, a parte che lo smaltiva perché non era mangiato in quantità così concentrato, in modo così concentrato come adesso, perché adesso veramente prima la gente si coltivava il frumento, erano vecchie qualità, sì avevano una discreta quantità di glutine, ma decisamente meno rispetto ai grani di forza che sono stati messi a punto man mano attraverso la selezione di laboratorio. Dei semi, delle sementi, sì. Proprio per andare incontro all'industria alimentare, di fare i biscotti, fette biscottate, dare sofficità a tutti gli... E però i nodi, piano piano, come i nodi dell'ambiente, anche i nodi della salute umana sono venuti al pettine. Non puoi pensare di fare mangiare in grosse quantità, in modo così continuato, una molecola che già di per sé crea dei problemi. E immessi in grosse quantità ne crea ancora di più. Spiegiamo cosa succede proprio, cosa succede quando uno ingerisce il glutine dal punto di vista fisico, cosa che... Ah beh, ma le possibilità, le possibilità. Il primo segnale, il primo segnale in genere è lo sviluppo di una forma infiammatoria alle adenoide, al tessuto, a quel tessuto linfatico che è praticamente nel rino faringe, ecco, che insieme, insieme alle tonsille fanno da guardiani per permettere al corpo umano di drizzare le antenne e capire che cosa va bene e che cosa non va bene. Quindi quelli che vengono operati gli vengono tolte gli adenoidi? Il primo segnale è proprio, mentre le tonsille indicano proprio la forte intolleranza al latte, le adenoidi indicano la forte intolleranza ai cereali col glutine. E' un po' la mia storia di bambina. E lì, e cosa volete? È stato operato ma hanno tolto le adenoidi, ad esempio. Anch'io? E le tonsille? Anche l'appendice? No. Negli anni 50 sono cominciate proprio, praticamente, le operazioni di massa a togliere, anche in laboratorio, in ambulatorio, senza tanto andare per il sottile, senza ricoverne niente, venivano proprio sradicate le tonsille e le adenoidi. Stop. E invece di cercare di capire come mai quei bambini a un certo punto sviluppavano il naso tappato, la voce sempre catarrale, pieni di muco, pieni di catarro, di notte dormivano con la bocca aperta, russavano di brutto, e invece di capire quello toglievano. E poi man mano i problemi sono andati sempre più avanti. Per cui, superata la prima barriera, perché le adenoidi sono la prima barriera dell'infiammazione, il problema ha cominciato a svilupparsi e a diventare sempre un po' più serio e severo. Sono cominciate le allergie respiratorie, che colpivano il naso, con sviluppo magari di polipi nasali, ma magari ancora peggio a sprofondarsi un po' di più, proprio nel tessuto polmonare, a sviluppare asma, a sviluppare allergie respiratorie gravi e severe. E questo qua è stato il primo livello. Poi sono arrivati quelli della seconda generazione, dei cibi con una grossa quantità di glutine messo dentro. E sono arrivate poi le altre patologie, le patologie autoimmuni. Sono cominciate poi, arriva la terza generazione, le malattie rare. Perché il DNA incamera sempre, sempre, sempre le cose peggiori, nell'ottica poi di selezionare, di togliere il materiale sbagliato, il materiale genetico. La selezione naturale noi non la lasciamo più fare il suo corso. Non esiste perché, appunto, se vengono detti sfruttamento minorile, se uno si fa aiutare da un ragazzo di 14 anni, figuriamoci se uno portasse avanti il discorso della selezione naturale, verrebbe preso per nazista, nipote di Hitler e Stalin messi insieme. La nonna, io dico per fortuna però, da mamma e la nonna. I conti si fanno alla fine. E quello che si vede in prospettiva, quello che si vede all'orizzonte, non sono delle buone e ottime notizie. Ci stai dicendo che mentre noi proseguiamo con gli insulti dati dall'alimentazione, portiamo avanti delle nuove generazioni che saranno sempre più deboli e malattici. Bravissima, sempre più deboli, sempre più deboli fino a che a un certo punto ci sarà il tracollo. Tutto lì. E quando i costi saranno decisamente esorbitanti, oramai ci stiamo arrivando, e nessuna nazione, nessun popolo, nessun governo potrà più permettersi di sostenere, bene o male verremo messi con le spalle al muro. E allora si prenderanno delle decisioni. Mi sembra tornare alla selezione naturale? Le leggi della natura non si possono stravolgere. Se la natura... Per fare lo spiritoso. No, 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 voglio capire, non faccio lo spiritoso. No, 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 sono preoccupato. Possono sembrare cose... No, non è un'autodistruzione. No, quello che sta dicendo non è... Tutto furché è spiritoso. Possono sembrare, certamente, nessuno di noi, nessuno di noi... Lo sperimenterà. No, no, nessuno di noi farebbe certe cose, però bisogna pensare quelli che sono i meccanismi della natura e pensare di andare a mettersi contro i meccanismi della natura, lo stiamo vedendo adesso, con lo stravolgimento dell'equilibrio climatico, lo vediamo bene, che disastri in 4 e 8 si stanno scatenando. È meglio mettersi contro agli eserciti della Nato, degli USA, della Russia, della Cina insieme piuttosto che mettersi contro a quell'esercito incredibilmente e terribilmente potente che è l'esercito della natura. abbiamo perso in partenza. È come mettersi contro al nostro DNA. Io ogni tanto proprio mi accaloro quando ho a che fare con persone che pensano di fare delle scelte ideologiche riguardo alla loro alimentazione. E gli dico, guarda, attenzione, è meglio se fai la guerra a un esercito che non al tuo sistema immunitario rischi, non dico al 100%, ma al 99,9% di essere sconfitto brutalmente. E così sarà per l'umanità, soprattutto in Occidente, perché nelle altre parti del pianeta ne mettono al mondo ancora un'infinità, ne muoiono ancora un sacco e una sporta, però quelli che sopravvivono hanno una forza che li deriva proprio da questo loro essere sopravvissuti, una forza strabiliante, strepitosa, che gli permetterà di mettere al mondo sempre più persone valide. Diversamente da adesso che lo vediamo, no? Lo vediamo. Basta andare in giro nelle scuole e si vede che debolezza immunitaria c'è nelle nuove generazioni. Quindi, quelli che hanno le allergie respiratorie da bambini, ma 50, massimo 60, hanno la bronza broncopatia cronico-ostruttiva, la BPCO. Quindi, attenzione. Se non fanno un cambio radicale. Sì, altra patologia, alta patologia in cui il glutine ha una grossissima... Comunque, per queste leggi della selezione, sia Fabrizio che io saremmo già spariti in altre epoche. No, ma voi ve la siete cavata, siete nati negli anni 50, al guaio sono quelli nati negli anni 80, 90 e soprattutto 2000 e 2010. Verso i 60 io e lui è un ultra 70, quasi 80 lui. Allora, Piero, ma qualche dono sostiene anche che le patologie cardiovascolari potrebbero avere un legame con questi consumi massicci di cereali. Sì. A cominciare da quella più grave, più severa, che può portare al trapianto del cuore, se le persone non cambiano strada, alla cardiomepatia dilattativa, ossia l'ingrossamento del cuore, che ha portato tante persone proprio al trapianto, quando sarebbe stato sufficiente togliere di mezzo dalla sua alimentazione il glutine. Ma anche l'aumento della pressione, la pressione soprattutto la minima, la pressione minima è quella che è causata soprattutto dai cereali, tutti quanti, ma in primis dai cereali con il glutine, ma anche a livello di colesterolo. Il colesterolo non è causato dai grassi e soprattutto non è causato dalle bravissime uova. La gente non mangia uova perché le hanno detto che contengono colesterolo, però non le hanno spiegato che quella molecola lì di colesterolo viene scissa e ricostruita in un altro modo, diversamente dalle molecole dell'amido e degli zuccheri che vengono scissi e ricostruiti sotto forma di colesterolo. Nelle persone che hanno quella caratteristica genetica di sviluppare colesterolo. Quindi le patologie cardiache, cardiocircolatorie sicuramente hanno nel glutine una delle cause principali. Quindi la risposta è affermativa? Sì, sì, ha certamente. E anche alcune patologie neurologiche, secondo la tua esperienza, hanno un'origine nel consumo di glutine? Basterebbe vedere. Adesso tra l'altro che si stanno sviluppando tutta una serie di patologie da quella dei bambini perattivi che li trattano già con farmaci invece di andare a cambiarli l'alimentazione. Dalle persone che hanno il disturbo bipolare, dalle persone che hanno il cosiddetto esaurimento nervoso, dalle persone che hanno la cosiddetta depressione. basterebbe provare a modificare. E lì ci vuole certamente le persone che li segue, ma la buona volontà degli interessati è almeno provare, provare, provare. E si scoprirebbe che la depressione, se le persone invece di usare tanti farinacci, tanti cereali, anche quelli del glutine, ma anche gli altri, e dolci e zucchero e la frutta, e magari si sbilanciassero mangiare più legumi e più pesce adeguate, più la carne adeguata e così, praticamente le depressioni che stanno diventando il male, proprio un male diffusissimo, i farmaci, i psicofarmaci, stanno diventando quelli farmaci più diffusi, più consumati, più utilizzati nei bambini, secondo me è un crimine veramente sociale. Senti Piero, ho letto invece che una prova sicura, alcuni ricercatori ne hanno trovato che all'origine delle crisi epilettiche ci possa essere proprio il glutine, il responsabile possa essere il glutine. Sì, certamente. E' lo statenamento delle... Tanto è vero che la dieta ad eliminazione ha portato ad una regressione della malattia. Sì, sì, certamente, anche se ritengo che il latte, i derivati del latte, nelle crisi epilettiche abbiano una responsabilità sicuramente maggiore. Ecco Piero, mi piace che tu sia arrivato a questo punto, perché volevo chiedertelo e molti telespettatori ci hanno chiesto. I due nemici storici insieme si potenziano che spesso noi li troviamo abbinati nella nostra alimentazione, per cui alla fine non si capisce più bene qual è esattamente colpa dell'uno e dell'altro. La verità è che insieme creano una sinergia diabolica in sostanza. Sì, e il problema è proprio questo, che nella pizza c'è questa concentrazione di frumento, di glutine e latte. Come è in quantità notevoli, perché le pizze vengono coperte proprio coperte di formaggio. quando una persona, al di là delle patologie che ha una patologia severa, ha una distrofia muscolare, tanto per dire un'altra patologia che ha nel glutine una delle cause principali, ha una miastenia gravi, come tante altre patologie autoimmuni, come artrite aromatoide, lupus ritmatoso sistemico, tutte queste patologie gravi e severe, se una persona mangia una pizza, ma neanche una pizza, un pezzo di pizza, ha subito un aggravamento della sua situazione. Se una persona non ha una patologia, se una persona ha una pressione arteriosa un po' alta, soprattutto la minima, se si mangia la pizza una volta, ma non sarà la fine del mondo, al mattino dopo si trova la pressione alta, basta che lui sappia e riconosca che gli è arrivato un innalzamento della pressione, perché la sera prima si è mangiato la pizza. Che se poi le persone, quando sgarrano, quando hanno dei problemi di un certo tipo, che vogliono fare una cena in un modo un po' particolare, che gli appaghi, che gli soddisfi, ma magari dopo cena non andate subito a letto, andate e prendetevi o la cicletta se c'è mal tempo, o andate fuori casa, vi fate 3-4 km di passo rapido e veloce, o andate a ballare se avete la passione del ballo. Certo, perché questo è l'altro segreto, che le generazioni prima di noi si muovevano molto di più, per cui se mangiavano una pasta o del pane, avevano modo di smaltirlo, non solo bruciare calorie, ma proprio di eliminare. Ma la cena non era mai il pasto più abbondante, diversamente da adesso. Adesso è diventato il pasto più abbondante, dove la gente va a scaricare a tavola tutte le tensioni, tutte le frustrazioni, perché non ha potuto fare certe cose e la sera si sfuga a mangiare di tutto. Prima di passare alle telefonate, vorrei chiederti anche, anche prima della pubblicità che rispetteremo la pausa, molte persone sostengono di avere la colite o dei danni all'intestino per il consumo di vegetali, di verdure, verdure cotte. In realtà, invece, leggevo, ma tu stesso mi pare che in altre trasmissioni abbia più volte detto che non è tanto colpa delle verdure quanto del cerali. Ah beh, certamente, quando si ha a che fare con la colite o con le forme più severe come retto colite ulcerosa, come il morbo di Crohn, ma senza dubbio, il glutine insieme al latte sono le due cause fondamentali per lo sviluppo di quelle patologie, ma le persone lo vedono che se mangiano le verdure adeguate, col pesce adeguato, con la carne adeguata, retto colite, morbo di Crohn e colite praticamente spariscono, vengono cancellate. E poi è sufficiente mangiare un poco di glutine e si scatena l'ira di Dio a livello intestinale. Il guai è che le persone oramai aspettano di vedere comparire a livello diagnostico che sia attestata la presenza ufficiale della celiachia. Ma non è così... Automatico. Sì, non è così semplice e facile. E come io dico, ci sono sempre i peggiori criminali che forse non sono quelli con la barba lunga, mal vestiti e con le scarpe messe proprio... Rotte. E forse i peggiori criminali sono quelli in doppio petto, quelli di cui non sospetteresti mai che potessero commettere dei crimini tremendi. E lo stesso, le persone che se non vedono i risultati dalle analisi pensano di non essere celiaci. E questo è il guaio della medicina ufficiale che aspetta per far togliere il glutine dall'alimentazione che sia attestato da esami di laboratorio, da esami di prelievo della mucosa, che sia attestata proprio la celiachia. Invece ci sono tutte le forme subdole. C'è quella che è evidente, evidentissima, ma ci sono appunto le forme molto larvate, molto nascoste, che solamente... Magari possono portare a una malattia di quelle veramente gravi, quelle degenerative, che abbiamo citato prima. Adesso passiamo alle telefonate, dopo la pubblicità ovviamente, però prima di dimenticarmi ti voglio leggere, chiedere, porre il quesito di questa mamma preoccupata che vuole sapere se ci può essere un nesto tra glutine, e il consumo di glutine e la strana situazione, direi drammatica, del bambino di due anni, che è completamente calvo, alopecia. È un bambino che soffre di molte, moltissime allergie alle graminacee e quindi gli hanno tolto latte, uova, frutta secca e pesce. Sì. Ed è calvo a due anni. E questa mamma, c'è scritto dove abita? Questa mamma, ora te la vado a rintracciare, no, ha scritto il papà, Salvatore Canna Lella, 02, da Milano. Sì. Ha dato il suo numero di telefono e dice che il bambino è uno zero positivo. Eh, quindi è zero positivo. Sicuramente... È nato il 25 ottobre, è alto 133 centimetri adesso e pesa 30 chilogrammi, questo bambino. Ma calvo dall'età di due anni. Ah, dall'età di due anni, 133 centimetri due anni? Guardate, sto leggendo senza occhiali, posso vedere. No, 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 ok, ok. Sicuramente, credo che i derivati del latte sulla caduta dei capelli, sulla alopecia, abbiano avuto un'influenza maggiore. Quindi rispondiamo anche all'altro telespettatore che dopo la trasmissione sul latte dichiarò ho l'alopecia areata, non riesco a risolvere il problema, è il latte. Ah, certamente. Lì è il latte, principalmente il latte. No, beh, poi ci possono essere cose stagionali, tipo anche il pomodoro può creare nelle persone di gruppo B e di gruppo A una forma di alopecia areata. Questo è uno zero questo bambino. Però poi finita la stagione del pomodoro i capelli ricrescono. Dovrebbero riuscire. Invece se c'è perenne e costante la questione è sì. Ci ritroviamo dopo la pubblicità con le telefonate. Buonasera, riprendiamo la nostra trasmissione, l'avevamo promesso e abbiamo le telefonate in linea. Prima però una doverosa specifica sul caso del bambino di prima, Antonella ha detto due anni ma è dall'età di due anni aveva l'alopecia perché abbiamo dato l'altezza ai chili, 1,33 di 133 centimetri per... Ne ha dieci di anni. Ne ha dieci anni ora questo bambino per cui... Gli facciamo gli auguri che ha un sacco di problemi. Ed ora la prima telefonata che viene da Foggia, mi dicono, adesso vedremo chi abbiamo in linea. Ricordiamo prima di prendere la linea telefonica che in questo caso il nostro telespettatore ci sta seguendo in streaming www.telecolor.net per chi non ha la possibilità di vederci con il segnale, quindi in questo caso stiamo parlando di Foggia siamo a 800 chilometri da qua e ci si può seguire in internet, ripeto, su www.telecolor.net. Buonasera, con chi parliamo da Foggia l'abbiamo già scoperta. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Con chi avevamo il piacere di parlare? Sono Benito, chiamo da Foggia. Benito da Foggia. Buonasera. Come ci ha scoperto? Eh, vabbè, io seguo il dottor Mozzi da parecchio e ho comprato il suo libro, ho tentato anche di fare un po' la sua dieta. Purtroppo devo fare una correzione, io non sto davanti al televisore perché ho provato a seguirvi in streaming ma ci ho dovuto rinunciare visto le grosse difficoltà. Quindi, adesso vi sto seguendo soltanto per collegamento. Le connessioni purtroppo, le linee di connessione non sono purtroppo responsabilità nostra ma dei gestori che gestiscono internet delle linee. Ma non solo in tanti che si collegano ma poi dipende anche dal tipo di connessione che c'è. Non abbiamo ancora una tecnologia così sviluppata che ci permette di... Provi in futuro il canale 132, non so se riesci a garantire... Ho provato, ho provato, mi hanno dato dalla regia il canale 184, ho provato ma niente, nessun segnale. Comunque, non ti faccio perdere tempo, arrivo subito al dunque. Ah, dunque. Io purtroppo non ho seguito quindi la traduzione fino adesso, perlomeno ho seguito molto saltellando. E niente, il problema era questo. Il problema del diabete, a quanto capisco dal dottor Mozzi, perché ripeto, leggendo il suo libro, io sono di gruppo zero e... So bene, volevo un approfondimento. Ma quando dice il dottor Mozzi, non dipende dal glutine in quanto tale, dipende però dai cereali in quanto tale. E mi chiedevo... Nel diabete, nel diabete di tipo 1, soprattutto quello che si sviluppa in giovane, giovanissima età, sicuramente dipende, dipende proprio dal glutine. Lì c'è proprio la distruzione, la distruzione che va verso la distruzione totale delle cellule dell'angher. Poi invece il diabete di tipo 2 è praticamente causato anche dall'uso degli altri cereali, però qua in Italia gli altri cereali non sono usati così tanto il riso, non è usato così tanto come il frumento. Capisco. Se una persona... Lei ha il diabete? Eh, diciamo che sì, perlomeno a digiuno la mattina, glicemia torna ai 110-120. Ma assume dei farmaci? Ah, per adesso no, sto cercando di fare la dieta Mozzi, questo è tutto. Ma allora, guardi, alla sera, quando si ha la tendenza, alla fortuna poi di vivere in un posto dove c'è la grande possibilità di mangiare ortaggi, verdure e tanto pesce, lei alla sera è di gruppo zero, si mangia le verdure col pesce, la verdura con la carne ed è a posto. Quale sera è come abbiamo detto prima, che una persona sgarra e pensa di andare perché ha una ricorrenza, una cena con gli amici, una cena con i familiari, prima di andare a letto si fa per le strade di Foggia una buona camminata di 2-3 km di passo rapido ed è a posto. Questa è anche la terra del grano duro. Però alla sera è la terra del grano duro, la terra del pane, ottimo pugliese, però non c'è santo che tenga. Lei quanti anni ha? 52. Eh, se ha 52 anni abbiamo già la tendenza a questa glicemia, ma lei fa la prova, poi decide cosa fare. Lei fa la prova, una sera mangia la carne o il pesce con le verdure e stop, e neanche il vino, e un'altra sera invece mangia un po' di panno o di pasta e vede come va il mattino dopo, scrive che cosa mangia e lascia decidere dal suo apparecchietto. C'è di buono il diabete, c'è di buono che è una malattia che io chiamo oggettiva, come la pressione alta, come l'ipertensione, sono come il colesterolo, come i trigliceridi, sono patologie che sono quantificabili in modo preciso e corretto da strumenti. Non è come, tanto per dire, un mal di testa, un mal di schiena, una cosa del genere, una colite, tutto lì. Io seguendo il suo libro, il suo libro è scritto chiaramente, quali sono gli alimenti da poter evitare. Sì, però deve stare attento, perché se lei che è di gruppo zero mangia grano sulla cena, mangia quinoa e li mangia a cena, la glicemia non migliora per niente. Quindi io la quinoa e di solito la mangio a cena. E volevo sapere, appunto, la soia invece, perché sto dirottando sulla soia, lei cosa dice a proposito di questo alimento? E dei legumi in genere? Sì, ma poi dipende che tipo di glicemia uno ha, perché quando ci sono le persone che hanno delle glicemie elevate, che hanno la glicemia di base al mattino alta, che hanno l'emoglobina glicosilata alta, allora la sera i legumi è meglio sospenderli. Per cui magari è meglio... Ma la soia? Sì, beh, la soia, soprattutto poi se la soia rossa, i cosiddetti azucchi, che in genere la soia tra tutti i legumi è quello che ha un proprio, se non addirittura non ce n'ha per niente, di componente amidacea. Quindi dovrebbe essere, che può andare discretamente bene. Ma lei fa le pro, ma lei si prenda la sua... Ma quando si hanno le glicemie alte bisogna cambiare l'ottica e il ragionamento. Lei lasci decidere tutto dalla sua glicemia. Si compri l'apparecchietto per misurare le glicemie, che tanto bene o male, finché scampo... Ce l'ho, ce l'ho. E allora è a posto. Lei stasera che cena ha fatto? Non ha ancora cenato. Non ha ancora cenato. Io ceno tardi. E non è un bel lavoro cenare tardi, perché poi se sta su fino alle due di notte può andare bene, però se lei cena alle dieci o alle undici di sera e poi va letto, addio. Ma di solito io adesso a cena, da quando ho comprato il suo libro, diciamo faccio quinoa, faccio verdure, faccio... No, ma a cena, soprattutto se cena tardi, tanto tanto se lei cena alle sette o alle otto e poi va letta a mezzanotte, allora se la cava. Però se lei cena tardi alle nove, nove e mezza, dieci, dieci e mezza e oltre e mangia della quinoa alla sera, al mattino c'ha la glicemia 110 o anche più. Provi e lascia decidere al suo apparecchietto. Sia così bravo. Buonasera, grazie a lei dell'attenzione. Devo dire che chi ha queste glicemie borderline, o meglio ancora chi ha diabete, farebbe meglio anche a prendersi o a scaricarsi da internet le tabelle, quelle degli indici glicemici degli alimenti, dove troverà tutte le indicazioni. Così si sa esattamente, perché ad esempio quinoa è molto più basso di una farina di frumento. Ma alla sera quando uno ha... È meglio comunque togliere tutto. Quando le persone, guarda, si risolverebbe il diabete, nel giro di 5 o 6 anni sparirebbe praticamente il diabete. Proprio, sparirebbe. E nel giro di un anno verrebbe dimezzato. Specifichiamo, quando dici alla sera, significa che nel pasto principale del mezzogiorno invece è contemplato... Sì, uno mangia, uno mangia, uno che ha il diabete, mangia quinoa, poi dipende che tipo di diabete, mangia quinoa a pranzo, un grano sarà cena a pranzo, a meno che non sia gruppo B o gruppo AB, se la cava, sopravvive, le glicemie non si alzano tanto, anche perché poi se uno ha una dischetta attività fisica lo smaltisce. Arriva prima di cena, la glicemia è perfetta. Però se una persona ha caratteristiche diabetiche, insomma, un po' che praticamente deve usare dei farmaci, dell'ipoglicemizzanti, peggio ancora se deve usare l'insulina, a cena proprio pesce, uova, legumi, pochi e niente, tante verdure e la carne adeguata. Con la carne, col pesce e le uova si guarisce dal diabete, più le verdure. Dottore, abbiamo un'altra telefonata. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Roberto, chiamo da Milano. Buonasera, ci dica. Buonasera, dottor Mozzi, buonasera a tutti e grazie per aver preso la mia telefonata. Ho conosciuto il dottor Mozzi al mercatino di Monza l'ultima volta che è stato e gli ho presentato il caso di un bimbo. Volevo chiedere al dottor Mozzi se l'alimentazione dei genitori e della madre durante la gestazione, a base di farinacee e ricchi di glutine, potrebbe avere influenzato la presenza poi nella nascita di epilessia e di una malformazione dell'encefalo che ha determinato poi tutta una serie di problemi che adesso si stanno trascinando e si stanno di più consolidando. Il problema è solo e unicamente la crisi epilettica, le crisi epilettiche o c'è dell'altro? No, c'è molto altro dottore, il bambino purtroppo adesso ha quasi 5 anni, è nato il 10 di maggio del 2009, il gruppo 0 positivo è alto 1,05 m e attualmente ha raggiunto il peso di 26 kg ed è in cura con cortisonici per bocca. Perché le crisi epilettiche sicuramente sono causate non dall'alimentazione che ha tenuto la madre in gravidanza, ma sono causate da uno stato di intossicazione proprio acuta in persone che hanno quella caratteristica. Ci sono altre persone che hanno dei forti potenti mal di testa, chi ha degli attacchi di ansia tremendi, chi ha degli attacchi di panico e invece per il danno a livello del sistema nervoso centrale sicuramente l'alimentazione materna può avere influito e decisamente proprio sullo svilupparsi di quella patologia a livello del sistema nervoso. Infatti attualmente presenta dei gravissimi ritardi. Voi i genitori che gruppo avete del sangue? I genitori sono zero. Tutti e due è zero? Sì. E la mamma in gravidanza è stata bene, ha portato avanti bene la gravidanza, non ci sono stati problemi soprattutto negli ultimi tre mesi? Ma durante una morfologica si accostero. Non c'è stata gestosi? No, non ci fu niente del genere, però le apnee respiratorie si sono manifestate fin dai primi giorni e poi si è andato a consolidare. E il bambino è stato allattato? No, purtroppo no, dopo il primissimo periodo ha avuto un allattamento artificiale. Certamente, anche se i danni al sistema nervoso centrale è più facile che abbia inciso l'alimentazione materna durante la gravidanza. E poi però che ci sia stato anche un aumento della gravità del caso dovuto anche all'uso del latte artificiale che deriva praticamente dal latte bovino e che contiene a sua volta amido di mais, magari tutta una serie di altre sostanze che possono aver contribuito allo sviluppo delle crisi epilettiche. E voi quanti anni avete? Ma io adesso sono... è mio fratello, io glielo indicai al mercatino, sto telefonando per loro perché davvero sono accorato rispetto alla situazione. Sì, sì, adesso mi ricordo, sì, di lei. Sì, sì, sì. E quanti anni hanno i genitori di questo bambino? Ma lui è una quarantina, lei nella seconda trentina, diciamo, 36, 35, insomma. E lì sarebbe, se volessero intraprendere una nuova gravidanza però devono sottoporsi proprio, soprattutto la mamma, a seguire un'alimentazione correttissima. Eh sì, ma infatti l'idea è proprio quella di convincere e instradarli tutti e due. E che a volte le persone sono spaventate, terrorizzate dall'esperienza di una gravidanza che ha poi portato alla nascita di un bambino con seri problemi per cui poi magari i genitori non ne vogliono assolutamente più sapere di affrontare una nuova... Questa che gestione è complicata poi, poverini. Eh niente, sicuramente credo che per lo sviluppo della patologia più grave e severa a livello del sistema nervoso centrale l'alimentazione materna in gravidanza sia stata quella che ha dato l'apporto maggiore. Per le crisi epilettiche invece l'alimentazione, il latte artificiale, l'alimentazione sbagliata, l'uso di latte dopo lo svezzamento sicuramente... Ma in questo momento, almeno per determinare un calo del peso corporeo del bambino che ha raggiunto i 26 kg, a me preoccupa un po'. Beh, a parte quinoa, che è meglio aspettare ancora un po', arrivare fino ai due anni e mezzo... Adesso ha cinque anni il bambino. Ah beh, c'ha cinque anni, sì, la può mangiare. Meglio usare quinoa, tutto al più un po' di riso, ma se no la carne è giusta, il pesce è giusto, le verdure giuste, un po' di legumi. La frutta è poca ed essenziale, ma soprattutto carne, pesce e verdura e secondo me dei miglioramenti si possono ottenere. Però bisognerebbe avere la possibilità di seguirle queste persone, ma per raggiungere non è un problema. L'importante è che i genitori abbiano voglia e buona volontà. Perché a volte mi rendo conto che ci sono nonni, zii, parenti che vorrebbero aiutare, dare dei consigli alle persone, ai familiari che sono colpiti da queste patologie, però gli interessati non ne vogliono sapere assolutamente. Allora loro si attendono un segnale, insomma. Va bene, comunque io sono raggiungibile, se lei abita nella zona di Monza la quarta domenica del mese ci siamo, insomma. Potrei ingirizzare a tutti. Per casi come questi sì, sono credo sempre molto disponibili. Ma un miglioramento potrebbe, anche in queste condizioni, potrebbe avere un... Non amo illudere nessuno, Antonella. Io dico, siete contenti dei risultati che avete ottenuto? Se siete contenti procedete così. Se non siete contenti proviamo una strada nuova. Non costa niente. Non comporta terapie tremende. Non comporta stravolgimenti di nessun tipo. Si tratta, invece che dargli certe cose, gli se ne danno altre. Quando è che a Monza la prossima volta? La quarta domenica del mese. Anche questa che è Pasqua? Dopo Pasqua? Dopo Pasqua. Sì, Pasqua è la terza quest'anno. La quarta. Per cui cercherò di convincerli a venirla a trovare, li porto io. Sì. Grazie, Dottor. Gli strapazzi, strapazzi i genitori. I genitori si devono svegliare. Aguri. Vedete che livello di coscienza. Quando è stato detto per la prima volta dal Dottor Piero che certe malattie gravi dalla nascita, e lo abbiamo rimarcato anche per quelle malattie che richiedono cure staminali, ad esempio, possono avere una storia proprio nella scorretta alimentazione, magari fatta anche involontariamente, senza coscienza dalle madri nel momento della gravidanza. Esatto, esatto, della gestazione. Ma fino a poco tempo fa non ci si potevano queste domande. Oggi siamo arrivati invece a un livello di attenzione maggiore, di consapevolezza maggiore proprio. Grazie a Piero. Ma no, ma grazie. Tanto è un processo, bene o male, l'umanità si è sempre divisa, secondo me, tra i tanti modi di divisione delle persone, delle genti, tra quelli che sono terribilmente curiosi, di quelli che non si accontentano mai delle prime risposte, a quelli invece che gli va bene e tutto. Li mettono lì la torta fritta e mangiano la torta fritta e in alto dice no, voglio vedere invece un'altra storia. Buon, e qui ieri abbiamo un'altra telefonata. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera. Buonasera, signora. Sono Lella della provincia di Milano. Va bene, buonasera signora Lella. Buonasera. Senta, io sopro di tachicardie e estrasistole. Volevo sapere se col grubine c'entra o no. Sì, certamente, certamente che col grubine possano centrare, non è che sia tanto... Lei che gruppo ha del sangue, signora? Zero positivo. Ma guardi, per le tachicardie e le estrasistole forse sono peggio il tè? Ah, il tè. Lo usa? Sì, sì, ne uso il tè, lo uso. Ecco, lo butti via, lo lascia i cinesi, l'unico modo che hanno di farsi del male i cinesi, i giapponesi sono quando bevono il tè. Più che il glutine è il tè e il caffè, guardi, oltre agli alimenti che creano difficoltà digestive, perché le tachicardie, le aritmie e le estrasistole appunto vengono quando ci sono dei problemi di carattere digestivo. che comanda il ritmo cardiaco è lo stomaco. Eh, ha ragione. Infatti poi mi viene proprio da ruttare, da buttare fuori aria. E quando ha ruttato e buttato fuori l'aria la tachicardia non c'è più. Perfetto, l'estrasistole passa, mi spavento anche oltretutto, guardi. E che colazione fa? Eh, che colazione faccio? Il tè con i pavesini oppure delle fette biscottate? Eh, tè, pavesini e fette biscottate e dopo mezz'ora c'ha le tachicardie e l'estrasistole. Guardi, io la seguo da un po' di tempo. Ho tentato di fare la sua dieta, però purtroppo ho dovuto smettere perché sono andata sotto peso. Sono dimagrita nel giro di un mese 5 kg. Ma lei quant'è alta? 1,60. E quanto pesa? Adesso pesa neanche 47 kg. Vabbè, se raggiungi 50 è perfetta. Ecco, ma... Eh, ma però donne, donne dovete pensare di fare un po' di attività fisica, eh? Perché insomma, che porta sul peso, che porta sul peso, non è il grasso. Eh, ecco. È la massa muscolare. Anche perché il grasso non è detto che poi si va a posizionare in modo bello, armonico su tutto il corpo. Magari ve lo potete trovare sulle gambe, sulle natiche, che vi fascia l'addome. E insomma... Esatto. Ma se io adesso mi metto a fare attività fisica, non dimagrisco ancora di più, scusi? Ah, dipende. Se fa il mezzo fondo, sì. Se si mette a fare i 10.000 metri, dimagrisce. O se si mette a fare la marcia. Ma se si mette a fare determinati sport che comportano, basta prendere un vogatore, tanto per dire, o appendere una sbarra, un trave, se c'è un trave in casa, un soffitto, se non protestano chi le sta di sopra, non è un problema. Ma anche solamente facendo delle flessioni si aumenta tutta la massa muscolare. Sviluppa in modo proprio armonico, anche solamente con le flessioni, tutto. Braccia, gambe, addome, torace, schiena. Ok, va bene. Senta, io la ringrazio tantissimo. Guardi, oltre a questo ho anche altre malattie, va bene, adesso non gliele sto a dire perché staremo al telefono troppo, devo lasciare spazio anche le altre persone. Ma lei quanti anni ha, signora? Ne ho 58, ne ho. Eh, va bene, ne ho 58. C'è mica da buttarsi giù da un campanile se ha 58 anni, signora. Mamma mia, adesso viene, pensi che fortunata è che lei è nata 58 anni fa, che non ha dovuto vivere, vivere la condizione adesso, di gioventù di adesso, in mezzo al caos delle città, ha vissuto un'infanzia sicuramente stupenda, come tutti quelli nati negli anni 50. È vero, è vero, ha ragione. Comunque allora tolgo il tè soprattutto, perché ne bevo parecchio. Eh, brava, sì. Neanche il caverbe, niente, non si può. Ma lo lascia i cinesi, guardi. E ma i pavesini che facciamo? Vuole stare proprio bene, a parte d'estate? Guardi, si faccia del brodo di manzo, di vitello o di pollo. Ma al mattino? Quando è fatto lo sgrassa per bene e se lo mette in un termos d'acciaio che tiene la temperatura calda bollente per 12 ore, quando ha sete lo beve. Va bene? No, non al mattino, si alza, beve una tazza d'acqua tiepida e corre al lavoro. E se fa colazione? Che lavoro fa, signora? No, io sono volontaria, adesso ho finito di lavorare, vado a fare del volontario. E allora, se ha finito di lavorare, chi le corre dietro? Basta, si alza, beve una tazza d'acqua tiepida e va a farla volontaria. Si porta dietro una scatoletta di cecce e tonno a metà mattino, quando è stanca per aver fatto volontariato, mangia cecce e tonno. E sta bene. Potrebbe essere, sa che la sua... Ma lei non è che la segue tanto bene, però, la dieta? Se è continuato a bere il tè e i pavesini, stiamo freschi. Eh, ma è perché appunto sono dimagrita e mi sono spaventata. Ma allora, tanto per tanto, si prende i brutti e buoni, albume, zucchero e mandorle. Colgo l'occasione per pubblicizzare, cara signora, le nostre trasmissioni di cucina, dove le nostre rispettive figlie, mia figlia Micol e la figlia del dottor Piero Mozzi, Esther, hanno cucinato insieme, già, le abbiamo mandate in onda e c'erano veramente dei piatti che lei potrebbe imitare, con qualche buona alternativa per le sue colazioni. Ma bene. Premesso che l'acqua calda, l'acqua tiepida, la mattina resta un obbligo. Penso, eh? Ah sì, per le persone di gruppo... Dottor Mozzi, per tutti i gruppi zero. Per le persone di gruppo zero, guardi, meglio di una tazza d'acqua tiepida non c'è nulla. E poi andate, non vi preoccupate proprio del cibo, il vostro stomaco è calmo, tranquillo e può sopportare tutti gli sforzi di questo mondo. Tanti auguri. Grazie. Auguri, signora. C'era una prova. All'inizio, prima della pubblicità, fatemi dire una cosa. All'inizio, quando ci siamo conosciuti con Piero, all'epoca c'era ancora la staffetta con Gianni Leani, non so se ti ricordi, poi c'è stato tu, poi è ritornato Gianni. E ci fece fare, anzi, all'inizio fu Marco Zigliani, ed erano laboratori salute, dove Piero non era l'unico ospite, quindi si contendeva gli spazi con altri, con gli altri intervistati. Ma ci convinse tutti con una prova che vorrei che vi invitasse a rifare. Una era quella del mangiare le fette biscottate e controllare. E l'altra? Eh beh... Dai, Piero, in pubblicità, addirittura da arrivo. Cosa possono sperimentare i nostri amici da casa? Dopo mangiato. Beh, dopo mangiato, beh, a parte il discorso delle tachicardie e delle ritmie, ma proprio il catarro nel naso, il catarro in gola. Quelle tossette, vero, che arrivano dopo mangiato. Le tachicardine, più gli anni vanno avanti, e più gli anni vanno avanti, e più i bronchi e i polmoni proprio non tollerano la presenza nello stomaco di determinate molecole, e arrivano la tosse, il catarro in gola, sì. E dopo mezz'ora? Ma anche poi proprio l'arrossamento delle mani, la sudorazione delle mani, insomma. Tutti i segnali quelli? Tutti i segnali, sì. Devono far scattare il campanello d'allarme, ma più bello è quello del braccio disteso e la mano pesa. Delle mani, delle mani, dei tremori alle mani, anche adesso ne vedremo delle belle, perché queste qua che sono l'anticamera del Parkinson, mamma mia, il Parkinson sta andando alla grande in un modo incredibile. Fabrizio, stendi il braccio e facci vedere. Devo far da cavia. È vero che... Come cose, come... Allargare un po' le dita. Insomma, sì, sono abbastanza ferme. Meno male. Però se sei a digiuno da un po' di tempo... È da mezzogiorno che non mangi. Sì, va bene. Ti vedremo dopo il panino, allora. O non lo mangi? Se la signora che ci ha appena telefonato, che beve il tè, gruppo zero, dopo dieci minuti, un quarto d'ora che ha bevuto il tè, stende le mani, i tremori ce li ha di brutto. Ecco, signora, la faccio la prova. No, no, ma adesso è curiosa. La facciamo tutti, è questa prova. Guardate che diventa un'abitudine, è un controllo, semplicissimo, ma un controllo. Vi aspettiamo tra qualche istante. Eccoci ritrovati per l'ultima parte della nostra trasmissione. Abbiamo già una telefonata, se prima ci hanno chiamato da Foggia, mi dicono dalla regia che adesso invece abbiamo una telefonata addirittura dall'Abruzzo. Vediamo con chi siamo in linea. Buonasera. Buonasera, un saluto al dottor Motti e a voi tutti. Buonasera signora che ci telefona da una bella regione come la Bruzza. Da Tortorezzo, provincia di Peramo. Sì. Ci dica. Posso parlare? Sì. Prego. Allora, io parto innanzitutto dalla malattia di fondo che da tre anni ho una leucemia linfatica cronica. Sì. Dopo di questo sono subentrati le transaminassi alte e dopo il diabete da 7-8 mesi. Insulino dipendente? Sono un insulino dipendente ma anche un insulino resistente, quindi ero stanca di questo. Ma come? In 6 o 7 mesi lei è passata dalla glicemia che prima era normale e è passata già subito all'insulina? Sì, perché per le transaminassi non hanno voluto darmi la metaformina. Ma lei quanti anni ha signora? 57. 57. E che gruppo ha del sangue? Zero positivo. E vive in Abruzzo? Sì. Con tutti i pastori abruzzesi. E infatti erano la vicino dipendente. E tutti gli agnelli che ci sono, agnelloni, che guarirebbero in una settimana da tutto quanto, dalle transaminasi e dal diabete. Io sono 15 giorni che seguo la tua dieta. Va bene. E la glicemia stamattina quanto era? No, adesso da quando seguo la tua dieta, stamattina erano 91, 75 oggi a pranzo e 75 prima di cena. E quanta unità di insulina fa signora? Adesso ne faccio 60, ne facevo 150. 150 unità di insulina? Ma cosa mangiava? Caramelle, cicchie? No, no, assolutamente, ero a dieta, per le transaminasi alte ero a dieta. Ma le transaminasi alte le venivano mica per problemi? Le venivano perché magari mangiavo salumi o latticini, signora. Latticini più che altro? Eh sì, le transaminasi alte in una persona di gruppo zero, ma neanche con i prosciutti le venivano, le vengono proprio con i formaggi. Non può essere della leucemia? Ma no, ma assolutamente, signora. Lei può avere benissimo una leucemia cronica, ma senza avere nessun problema al fegato. Sì, la leucemia cronica di sicuro ha alle spalle dolci, zuccheri e cereali, tutti, soprattutto in prevalenza quelli con il glutine. Sì, pasta, pane e no. E anche la frutta. Ma lei quanto è alta e quanto pesa, signora? Allora, io diciamo che sono intorno a 1,60, pesavo un anno fa 52 kg, sono arrivata a 42 kg, da quando faccio la dieta sono scesa un chilo, ecco perché volevo parlare con lei. No, signora, è il problema della signora di prima, anche lei gruppo zero, che se non vi mettete a fare una buona e discreta attività fisica mirata, mirata proprio a tenere in ottima forma tutta la struttura muscolare, si perde peso, perché lei perde praticamente il grasso e rimane la struttura muscolare. Che fa mettere su dei chili, signora? Non è il grasso, perché se lei in una pentola mette del grasso, il grasso viene a galla, se lei in una pentola mette un pezzo di carne magra, va a fondo. Insomma, ma che colazione fa signora al mattino? Adesso, allora, prima latte, fette biscottate e marmellate, adesso seguo la sua dieta, quindi latte di soia l'ho sostituito, caffè di cicoria e poi prendo una mattina l'uovo, una mattina il salmone, una mattina ho imparato a fare le crepe di quinoa. Sì, infatti poi a mezzogiorno c'è la glicemia e comunque cominci a ridurre, signora, le unità di insulino. E stasera che ce n'ha fatto? Stasera pesce e verdura. E basta? Non usa degli edulcoranti, dei dolcificanti? Assolutamente, sono contrari, io ho un medico, il medico di famiglia, che è mio cugino che mi ha fatto conoscere appunto voi, siamo contrari, quindi siamo anche da abbastanza naturalisti. E la glicata quanto era? La glicata adesso da otto mesi è salita, da sei siamo a otto viscola qualcosa, adesso non mi ricordo perché sono qui davanti, oltre mezza. Quando è che l'ha misurata l'ultima volta? Da poco, da due mesi? No, di meno, una mesata, una mesata, adesso devo rifare le analisi subito dopo passo. Da un mese, però lei è cambiato solo da poche, da dieci giorni, va bene, però lei gradualmente signora, scali, scali, scali le unità di insulina anche perché è sicuramente, è sicuramente meno peggio avere le glicemie un po' alte piuttosto che andare in ipoglicemia e con l'insulina si va in ipoglicemia, se si mangia correttamente. Ma per aumentare un po' di peso come facciamo? Perché non ci riusciamo? Non ho capito, non abbiamo... Allora, no, mio marito diceva, siccome io poi sono, diciamo che sono depressa per il peso perché sono uno scheletro e quindi volevo aumentare un po', non riesco ad aumentare, non so se è dovuto alla malattia o se è dovuto alla glicemia. Ma lei mangia della frutta? Mangio una mela la mattina e una mela a merenda perché non so che cosa mangiare altrimenti, mangiavo lo yogurt... Eh, signora, mangio una mela la mattina, una mela a merenda, le persone di gruppo zero che mangiano di frequente la frutta e poi vanno in depressione. E come lo sostituiscono, potendo più mangiare yogurt e... Cubetti di rosbifo o di bresaola, se no si fa quelle belle focaccine di legumi. Infatti sto imparando, è quello che non mi viene il pane. No, no, che pane? Lasci stare i pani, signora. Le focaccine di legumi, lei prende un frullatore, ci butta dentro dei ceci o piselli o cannellini o si cuoce lei i fagioli dell'occhio, la soia rossa. Sì, ha imparato anche a fare i fagioli. Una volta cotti o aperti dalla scatola, li scolla, li butta dentro il frullatore, ci butta dentro del tonno sgombro mescolati o sgocciolati e... o se no del polo del tacchino, l'uovo che fa d'allegante e stop. Quello lì sono i suoi spuntini, signora. Tutti i giorni? Non posso variare? E perché? Prima non mangiava quelle cosacce terribili tutti i giorni. Mangiava il parmigiano la mattina alle 10? Sì, appunto. Eh, lo yogurt alle 4 del pomeriggio. Mamma mia, signora, ma gli dica che le transaminasi adesso andranno a posto e torni almeno almeno alla metformina. Nessi stare, glielo dica, ma guardate che le transaminasi erano andate fuori posto perché continuava a mangiare latte, parmigiano e via dicendo, eh. Parmigiano, anche se mangiava il gruviera o il gorgonzola o il taleggio, era lo stesso, sa. Il parmigiano perché in ufficio è comodo da portare, quindi era la colazione comoda, diciamo. Ah, beh, ma signora, è comodo anche portarsi una vaschetta con dentro dei ceci col tonno, eh. Non è mica difficilissimo. Farsi la sera prima, è quello il problema. O portarsi invece che dei pezzetti di formaggio, portarsi anche dei cubetti di rosbifo o di bresaola. Ma la mangio già al giorno, la sera. Infatti l'unica cosa che non riesco a togliere è i miei 50 grammi di pasta al giorno. Eh, allora adesso qua cominciano a saltare fuori le storieze, eh, signora. Eh, veda lei, signora, veda lei. Allora meno peggio sicuramente mangiare un po' di quinoa piuttosto che la pasta. Ho capito. Forza, ma in Abruzzo, terra di pastori, signora. Eh, per quanto riguarda la dicemia linfoma, c'è... Ah, appunto, appunto. Mette a posto, mette a posto il diabete, il che vuol dire togliere, togliere tutta una serie di alimenti e facilmente può andare a posto la lucemia cronica. Ma lì il glutine c'entra? Ma che valori aveva di globuli bianchi? Adesso, dunque, siamo partiti tre anni fa da 19.000. Sì. Eh, cioè, da 15, 16, 18, 19 si arriva di mille e mille ogni sei mesi. Da tre mesi, da quattro mesi, sono ridiscesi a 15.000 e due mesi fa erano a 11.000. Eh, va bene, guarda, adesso cominci intanto a porsi l'obiettivo di portarli attorno ai 10.000. E poi, quando praticamente è 10, l'obiettivo ideale sarebbe portarli sotto gli 8.000. I globuli bianchi, l'ideale sarebbe che stessero tra i 4.000 e i 7.000. E lì c'è la perfezione del sistema immunitario per quanto riguarda i globuli bianchi. Però, nei valori delle analisi che le danno, le danno da 4 a 10, insomma. Sì. Eh, ma lasci stare quella pasta lì quotidiana? Neanche di quinoa, la pasta? Eh, ogni tanto si fa lei i gnocchetti di quinoa, basta che non le mangi a cena, come abbiamo già detto. No, no, cena l'ha fatto sempre, o con la carne o con il pesce. Va bene, a posto. Questo lo sto seguendo alla lettera. Sì. Io per il momento la ringrazio. Va bene. Speravo che ci potesse rispondere, veramente. Eh, siamo anche un po' emozionati di parlare con lei. Vabbè, santo cielo, ma no, per l'amore del cielo. Grazie. Vabbè, di avere una telefonata all'Abruzzo. Loro da dove ci stanno seguendo? In streaming? Sì, esatto. Quindi faticate un po', poverini. Grazie comunque. Vabbè, buonasera signora. Arrivederci. Tanti auguri, tanti auguri. È molto bello. Abbiamo richiamato Carlotta giù. Mi dispiace quindi per tutti gli altri che non avranno potuto usufruire di questa diretta la possibilità. Il tempo tiranno. Esatto. Però Carlotta adesso arriverà con l'elenco, quindi avete ancora in estremis la possibilità di sentire segnalato il vostro caso. Che cosa vogliamo aggiungere, Piero, dall'elenco quasi infinito delle patologie? Ce ne sarebbe da parlare. Il dito scatto, ad esempio, non sarà la cosa più grave di questo mondo, ma... E' che praticamente uno non riesce più a governare bene la mobilità delle sue dita, per cui praticamente il dito si blocca e poi assume un atteggiamento quasi meccanico, ecco, come un coltello a seramanico. Non abbiamo toccato le malattie renali, però avevamo dedicato una trasmissione, ma così giusto per ricordare, se qualcuno fosse all'ascolto per le prime volte, dietro alle insufficienze renali... Insieme al latte, i cereali con il glutine sono... anzi, se uno vuole tenere a base l'insufficienza renale, i cereali, tutti, tutti quanti, non solamente quelli con il glutine, ma in particolare quelli con il glutine, li deve vedere col binoccolo. Se no l'insufficienza renale finisce in dialisi, finisce in trapianto. Ricordo che su un punto, soprattutto, eri molto discorde, diciamo, dalle indicazioni ufficiali, quando chi è a patologia del rene di solito viene messo a dieta senza proteine. Tanto è vero che viene riconosciuto anche... No, ma adesso i nefrologi più svegli hanno capito che non bisogna far bere tanti liquidi a chi ha l'insufficienza renale e bisogna metterli a mangiare le proteine, perché se loro perdono proteine con le urine, non si può dire non devi mangiare proteine, anche perché più mangiano in modo aproteico e più peggiora l'insufficienza renale, quindi... Ecco, l'ho voluto ricordare proprio a beneficio di quelli che non ci conoscono da una vita. Carlotta, ci fai un report veloce, quindi? Troppo tante leucemie, tante persone con diabete, malattie autoimmuni, ecco, più o meno le... Eh sì! Tra le malattie autoimmuni ricordi qualche cosa in particolare? Eh, non me l'ho specificato, sì, esatto, tre o quattro casi di sclerosi multipla, purtroppo, che è sempre più diffusa anche in giovane età. Ma la sclerosi multipla è più latte derivati del latte, del frumento, poi certamente quando si è manifestata, consolidata una patologia, allora uno deve rigare proprio dritto. Ma che fa scattare la scintilla della sclerosi multipla, il più delle volte, non dico la totalità assoluta, ma quasi, sono i latte derivati del latte. Quindi... Vorrei chiedere in particolare di una malattia terribile, la fibrosi cistica. Sì, ecco. Qui abbiamo dedicato anche a una trasmissione qualche anno fa, casi drammatici, perché degenerativi proprio. Che proprio, non l'ho portato proprio nella mia sbadattaggine stasera, che sono scappato perché ero un po' in ritardo, e di prendere quel settimanale che si chiama Vanity Fair e c'era su la storia di questa ragazza di 18 anni che ha avuto il trapianto di polmone a causa della fibrosi cistica. Il guaio è che quella poveretta, non le hanno detto, che si continuerà a mangiare nello stesso modo che l'ha portata ad avere questa patologia tosta e severa, la fibrosi cistica, la fibrosi cistica le praticamente farà sparire anche i polmoni trapiantati. In questo caso quindi il glutine è veramente responsabile? Certamente, nella fibrosi cistica proprio il glutine è uno dei responsabili proprio principali, se non il principale in assoluto. E poi tutte le malattie autoimmune, artritanomatoide, lupus, nitriomatoso sistemico, fibromialgia, connettivite, sclerodermia, mamma mia ce n'è proprio... In tutti quanti, se si vogliono ottenere dei risultati di un certo tipo, almeno almeno che permettano una vita accettabile, una qualità della vita accettabile e decente, ecco, da non essere imbottiti con immunosoppressori, con cortisone e civile dicendo, la via maestra è quella di cominciare ad abolire proprio il glutine. Poi anche tutte le altre cose, perché con le malattie autoimmune, anche i dolci, i zuccoli, devi farli sparire. Però, prima di tutto, devi farli sparire. Mai, quindi? Perché qualcuno ci ha chiesto, la domanda più ricorrente è questa. Ma fin da bambini dobbiamo evitare i cereali col glutine o c'è un'età, diciamo, della tolleranza maggiore e poi incominciare a tirare i remi in barca dopo i 30, 40, diciamo così? Eh, dipende, dipende che malattie uno sviluppa. Perché un bambino che ha già problemi alle adenoidi, si capisce che è già quello lì con il glutine e i ferri corti. Se poi comincia a sviluppare malattie dell'apparato respiratorio, allergie stagionali respiratorie, ossia le cosiddette i pollini delle graminacee, che parte da aprile fino a giugno, secondo l'andamento della stagione, e già lì ci sono, se poi lì si vede che cominciano a venirli, ecco, un'altra patologia autoimmune come il morbo di Renault, che cominciano a manifestarsi tutto delle problematiche, l'arrossamento delle mani, addirittura lo sbiancamento o che diventano quasi viola, violacee, fredde, freddissime, dipende sempre da che tipo di malattia uno ha. Se un bambino, bene o male, se la cava, sta bene, dorme bene, non russa, ha il naso aperto, non ha sinusite, va bene, che lo mangi pure. Se non sviluppa tosse, se non sviluppa catarro, lo usi pure, però sempre drizzando le antenne e alle prime avvisaglie, cercare di mettere in relazione quello che il bambino manifesta con gli alimenti che lui introduce. Fermo restando che oramai le allergie respiratorie. Antonella, quando io sono nato, bambini con le allergie respiratorie non esistevano, non c'erano. Ma non perché non si facesse la diagnosi, non c'erano proprio. Oggi si dice che c'è anche un inquinamento molto elevato, avrà il suo peso sicuramente anche questo. Però tu ritieni che altrettanto pesante sulla bilancia si ha l'alimentazione. È come il discorso del tumore al polmone con i fumatori. Ti voglio fare un'ultima domanda. Lo sai che c'è una parte di mondo naturopata, diciamo, di medicina e quindi di alimentazione naturale, che sostiene che c'è una gran differenza tra i cereali col glutine raffinati e i cereali col glutine, soprattutto cereali magari antichi, in chicco. Prima avevamo parlato del cereale germogliato. Meno peggio forse quello germogliato. Ma il cereale in chicco, che tra l'altro se non è cotto e ricotto e stracotto per bene e non masticato e rimasticato per bene, ha un effetto devastante. Se poi c'è qualcuno appunto con la colite o l'aretto colite ulceroso, il morbo di Crohn, peggio ancora, con i cereali in chicchi integrali rischia veramente di correre in bagno intanto che sta ancora mangiando qualche cucchiaiata di questa zuppa di cereali. Per l'amor del cielo. Quindi la risposta è no? No, anche perché poi è peggio ancora. Perché è meno peggio, per uno che ha il morbo di Crohn, è meno peggio la farina bianca della farina integrale. La farina integrale con la crusca, la crusca sono delle fibre veramente come passare una lima, una lima neanche da ferro che è abbastanza fine, una lima da legno da maniscalco, sul velluto. Certo. E quindi... E sempre addirittura, siccome noi ti conosciamo da tanti anni e sappiamo che all'inizio eri un po' più morbido sui cereali abitini, ad esempio era consigliato un po' il farro. Eh ogni tanto, ma il farro tipo... Fabrizio lo può usare ogni tanto il farro, che non lo mangi quando c'è la stagione dei pollini, sopravvive, se la cava. Poi andando avanti negli anni, se quando arriverà a 50, 55, 60 anni, se i suoi bronchi, se i suoi bambini, se i suoi bronchi, i suoi polmoni diranno che appena li mangia cominciano a protestare vivamente, oppure se quando va a letto e comincia a russare e la moglie si lamenta perché è russo, oppure addirittura gli verranno delle belle apnee, allora dovrà decidere a toglierlo, radicalmente a toglierlo. Ma per tutti coloro che hanno tolto il glutine e hanno sostituito il glutine con ad esempio pasta di mais e riso, stasera abbiamo incontrato moltissimi diabetici, questa pasta per loro potrebbe essere veramente pericolosa. E' ancora peggio, è ancora peggio, è ancora peggio e il peggio ancora è far mangiare. Quindi il mais nemmeno va bene. Che tanto tanto riso, bene o male, ogni tanto c'è qualcuno… Ecco ma tu riso, non ci dici mai quale riso. C'è riso e riso, riso integrale, riso selvaggio, riso basmati… Certamente, la fibra del riso è diversa dalla crusca del frumento, ossia la crusca del riso è decisamente diversa, meno dannosa sull'apparato digerente rispetto alla crusca del frumento. Quindi è diversissimo, fermo restando che quando uno ha il diabete, che mangi il riso bianco, basmati, integrale, semi-integrale, parboiled, nero, bianco, venere, meno li vede e soprattutto… Ma hanno un indice glicemico molto differente. Ah ma non c'entra niente, la sera, la sera li cancellino, le persone che hanno problemi di glicemia, cancellino questi vari tipi di riso totalmente… Certo, il riso selvaggio è decisamente meno peggio del riso bianco del basmati o così. Va bene, vogliamo concludere? Avete da aggiungere? Con cosa concludiamo? No, abbastanza. Concludiamo, concludiamo… Beh, faccio… No, mi spiace sempre perché poi sul più bello bisogna finire quando magari… No, voglio dire questo, ogni tanto capita che facciamo degli incontri e allora volevo dire alle persone che sono interessate, allora in quei momenti lì quando ci sono le conferenze che faccio c'è molta più possibilità di dare le risposte alle persone. Allora volevo dire che c'erano due appuntamenti, uno è abbastanza… c'è ancora tempo, abbastanza insomma perché è il 22 di maggio ed è ad Asola, è organizzata dalla Proloco Asola e un negozio del germoglio di Asola ed è per il 22 maggio. Se vanno le persone sul sito praticamente di questo negozio che gestisce, che è mail, l'info chiocciola il germoglio asola.it e troveranno le indicazioni. Asola-Mantola, giusto? Asola in provincia di Mantola e questo sì, sicuramente quando ci sono questi incontri sono tre ore che do di tempo in genere alle persone, quindi tre ore di domande a Rafica che se le persone non le sprecano è possibilissimo insomma toccare tante patologie, mentre stasera abbiamo dato risposta a sei o sette persone e invece in quei momenti lì… e l'altro invece è il giorno, il 2 di maggio a Bel Gioioso che c'è una conferenza e come tema l'ansia che poi magari vedremo di trattare anche nelle trasmissioni. Nei prossimi appuntamenti. Visto che nell'ansia non ne abbiamo mai parlato, ne abbiamo parlato insieme ad altre cose ma in modo specifico proprio solo dell'ansia forse non l'abbiamo mai trattato. Andremo a rivedere i nostri elenchi. Andremo a rivedere, quindi sono i due appuntamenti perché quest'anno non ho idea di fare tanti incontri, insomma quelli tipici canonici, quello di Bel Gioioso, quello di Canzo, non non so neanche se riuscirò a fare quello di Bobbio perché insomma poi diventano… D'accordo. Ma quello di Asola può essere un bel momento dove ci sono, come è stato quello di Crema, tante tante domande, tante patologie e soprattutto se le persone hanno voglia di imparare, di capire, di conoscersi, si possono fare tante cose belle insomma. Perfetto, noi lasciandovi vi auguriamo di passare un magnifico mese, quello che ci allontana dalla data del prossimo Box Salute, che sia un mese da spendere per la vostra salute, quindi con i consigli che vi sono stati dati, un mese di riflessioni e se volete approfondire i temi della cucina perché adesso vanno veramente molto di moda questi show in cucina. E' giusto anche per dare la possibilità di capire come si può fare un piatto diverso rispetto magari ai soliti. Quindi dopo il pane e le focacce, Esther Mozzi vi proporrà torte salate di verdure, sandwich di patate, pansoffice con cioccolato fondente, quindi un dolce e cannelloni ripieni. Un po' di fantasia sul ripieno. Un po' diverse dalla solita cucina che alla fine girala come vuoi, sono sempre le solite cose, ecco, quindi... Però noi le abbiamo già mangiate, sono buone, si possono mangiare bene. Sigla? Sì, appunto, le persone, no, siccome poi le persone adesso a volte, insomma, poi qualcuno poi mi sgrida che tratto male un po', che sono un po' scorbutico, vi dicendo, che cerco di essere di una disponibilità immensa, però devono capire le persone che non posso, non posso sempre comunque essere sempre lì con una disponibilità immensa infinita. devono pensare che ho anche altre cose da fare e che nella mia vita c'è la salute della gente, ma c'è anche la salute del posto dove vivo, che siccome vivo in montagna, a mogliazze, non c'è mica tanta gente che viene a fare i lavori in montagna. quindi dobbiamo, anche oggi è stata una giornata di zappature per preparare gli orti, perché gli orti se non si preparano, mica uno schiocca le dita e gli orti sono pronti, quindi ci vuole anche chi zappa e vanga, tra l'altro mi piace molto. Comunque sui siti mogliazze.it c'è sempre la possibilità di vedere, di guardare, di considerare tante cose, anche tante informazioni, se le persone sono attente, insomma, le informazioni ci sono. Poi ci sono tutte queste trasmissioni che ormai ce n'è una caterva incredibile, ecco, di notizie e di informazioni. Guardate, sono presa la briga veramente, sia sul nostro sito che va comunque ancora perfezionato, adesso dobbiamo allineare quello nuovo a quello vecchio, ma soprattutto abbiamo gli amici di Telecolor Green Team, su Facebook, che possiamo tenere in contatto, ma guardate, ho visto che su YouTube, dove ci sono quasi tutti i nostri filmati, perlomeno alcuni spezzoni, perché vi ricordo che tra le cose che la nostra emittente ha permesso e promosso, c'è anche questa divulgazione a titolo veramente tutta gratuita, potete scaricare, fare quello che volete, consultare e questo liberamente, proprio perché siamo stati tolleranti all'inizio e benedicenti adesso, però i contatti sono impressionanti, ve li potete vedere da voi, si va, si viaggia all'ordine delle migliaia di, vicino di migliaia di, ad argomento, ad argomento, vicino di migliaia di, 8 mila, 24 mila contatti, continuo eh? E quasi 4 mila amici di Facebook. Siamo a 4 mila? Quasi. I amici sul social network. Va bene, allora, sigla finalmente. Sigla finalmente. E grazie a tutti per averci seguito con, come sempre con attenzione, da qualunque mezzo voi ci seguiate in qualunque modo, però con l'intelligenza, l'attenzione, la sensibilità di chi vuole veramente cambiare e far qualcosa per la propria salute. Sì, sì, gente, pensate, mandate al diavolo tutta questa gente che veramente ha portato a una situazione di una crisi incredibile a tutti i livelli. Preoccupatevi della vostra salute, passatevi informazioni che riguardano la salute, che alla fine, stringi, stringi, è la cosa veramente più importante. Tutto il resto diventa secondario. Sigla? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Grazie.